giorno 5 divento come james stewart nel film la finestra sul cortile una guardiana con l'avamposto dietro la persiana pronta a indagare ogni minima alterazione di un ordine temporaneo la mia postazione attiva già da ieri da quando ho notato il particolare cambiato non ho fame non leggo non penso e arriva la sera non ho intenzione di mollare anche quando mi abbiocco e credo di aver fallito ho freddo il battente socchiuso e davanti a me quando proprio dalla fenditura stretta spunta un piede dal collo alto l'apertura si allarga e compare un ginocchio ossuto e una coscia slanciata tutto svela il corpo di una donna è sicuramente bella ha in dono la bellezza che piace a me discreta rispettosa e pronta a esplodere chi è come riuscita a entrare la osservo siamo vicine vorrei subito sapere ma ho paura di rovinare tutto non so cosa fare è tergiverso lei ruota il suo corpo nella mia direzione ed è come ricevere un pugno pare quella la sua intenzione davanti a me i colori delle percosse che dal verde al prugne intenso si scompongono in piccole punteggiature giallocra rendendo i lineamenti e il contorno della figura sbilenchi penso ai volti dipinti da picasso e rivedo linee nette che interpreto come i comportamenti sbagliati che le regole correggono la pelle è la carta copiativa che trattiene il dolore la fisso come ipnotizzata non vorrei umiliarla ci guardiamo per la somma di immemorabili istanti e noto i suoi occhi che rilasciano acqua salata le lacrime scivolano sulla sua pelle pallida colando sul seno e perdendosi tra le pieghe del vestito ristallino sulla cute scura tra le ferite dove formano piccoli stanni buochi e le gocce non riescono a rimbalzare mi dice sono sara conosco la tua sofferenza non replico sto zitta e cerco di capire da quale posto della platea ha potuto godere dello spettacolo della mia vita nella bolla in cui vivo manca lo spartito da cui leggere le parole da ripetere riesco solo a contare le lavatrici stese che paiono barriere di una umanità dispersa ho le vertigini per il contatto prolungato all'improvviso ascolto la mia voce che sgraziata esplode come sei entrata in casa sarano risponde subito e temo possa non avermi sentito poi ripete come sono entrata ho l'impressione che stia raccogliendo i ricordi e non mi sbaglio quando prosegue conoscevo bene la signora clelia ogni martedì e giovedì le leggevo le poesie che non poteva accarezzare con gli occhi la mia voce le piaceva mentre rimandava alla maliconia di quelle liriche imperiture era ormai cieca ma vedeva con l'ascolto registrava il mio fiato quando si spezzava per le costole dolenti e l'affanno mentre l'aria si bloccava nei polmoni per il male sarà si ferma sembra distratta dal cane che abbaia insistentemente dalla strada e mi aspetto che mi lasci da un momento all'altro quando riprende mi ritrovai a leggere la mia vita le raccontai di quando le prendevo così forte da svenire prima di lui era stato mio padre un uomo che traeva conforto prendendomi a cinghiate e che ritrovava un contegno soltanto dopo essersi sfiancato in colpi rabbiosi le riferì dell'indifferenza di mia madre e del vuoto che mi aveva risucchiato senza che me ne rendessi conto mi concesse di chiamarla unicamente clelia perché la confidenza diceva è nel nome un giorno mi indicò il diretto dove prima di perdere completamente la vista tra le lettere di alcuni fra i suoi studenti aveva conservato il duplicato delle chiavi di casa insistete affinché le prendessi e accettai la sua casa avrebbe dovuto essere il mio guscio saratace indugia in una sosta senza tempo dove ci ritroviamo sospese poi aggiunge il lezzo della violenza sai ti rimani attaccato addosso come un sortilegio mi ritrovai accanto a un marito violento brutale nell'oltraggiare quanto sadico nel violare mi deve prova che all'esercizio della verga si può associare la rapina dello spirito solo a clelia rivelai del timpano perforato e quando morì un anno dopo il nostro primo incontro mi ricordai del nostro segreto le luci dell'alba anche in un vicolo di una città di provincia iniziano a farsi strada non so cosa aspettarmi ancora lei si volta e riappare il profilo quello che la scopre bella e cinicamente mi domando per quanto tempo chissà si aspetta che le chieda qualcosa mentre preservo la quitte che ci avvolge i particolari non cambiano le storie di violenza domestica sarà appare sollevata entrambe lo siamo dura un attimo lo sguardo d'intesa che ci scambiamo le rientra nell'appartamento e stavolta chiude perfettamente la porta finestra la lascio andare attraverso il nostro seguito è un attimo 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 è